E' arrivata una proposta proprio dalla Federalberghi a nome del suo presidente Americo Pilati per cercare di trovare i fondi necessari per un acquedotto alternativo, chiamiamolo così. Sì, l'acquedotto alternativo, speriamo agli ascoltatori che cos'è, è un'idea del sindaco Chiappori che in una riunione con gli albergatori disse srotoliamo, semplificando, un tubo da Imperia e portiamola a Diano. Una dimensione naturalmente non di 60 ma sarà di 30, però potrebbe bastare la gestione oculata che noi potremmo avere nelle nostre strutture di salvare la stagione. Perché pensate un po' se dovesse succedere. Da quello che mi risulta la preoccupazione dell'AMAT è fortissima, quindi significa che loro sanno lo stato dell'acquedotto come si trova. Quindi è successo l'altro giorno senza pressione, perché è minima. Immaginate quest'estate quando a Diano Marina ci saranno 60.000 persone, la pressione sarà a 4 atmosfere, butto lì e quindi salterà per aria. Se salta per aria la sera e riusciamo a aggiustarla di notte va bene, ma se salta la mattina e dobbiamo chiudere, chiudiamo gli alberghi. Forse si comincia a ragionare in termini e con aggregazione di tutto il tessuto sociale che fa parte del nostro Golfo d'Annese, dagli imprenditori all'ospedale, a tutto quello a cui serve l'acqua. E noi diciamo che è il momento per lanciare questo urlo oltre confine, che non è solo della provincia di Imperia, ma far capire a chi può capirlo, che non certamente Imperia, ma Genova e lo Stato, che qui c'è una situazione insostenibile, una situazione che da anni noi gestiamo a nostre spese, nel senso che paghiamo tutti, gli albergatori perdono clienti, poi li andiamo a recuperare, poi li riperdono perché l'anno scorso 38 rotture di quelle che sappiamo. Poi mi diceva giustamente il buon Ingegner Galea, persona squisita di Amat, che non sai quante ne facciamo che voi non sapete, quindi c'è ancora questo piccolo problema. Di fronte a questo noi chiediamo che una riviera acque che è titolata, purtroppo lei a fare, anche in questo momento difficoltà, a fare questo bypass, possa chiedere o possa arrivare da Roma qualcuno che gli dice, beh guarda qui ci sono un milione e mezzo, fai questo lavoro perché è necessario quello che devi fare.